Prima uscita pubblica da ministro nella sua treviso per Carlo Nordio accolto a Palazzo Giacomelli dalle più alte cariche civili e militari della città. Ai giornalisti che lo attendono ribadisce quelle che sono le sue priorità per la giustizia. Sono quelle dell'efficienza della giustizia, l'accelerazione dei processi, il mantenimento e il potenziamento delle garanzie individuali, la certezza della pena intesa come, diciamo il garantismo inteso come certezza sia dell'esecuzione della pena sia della presunzione di innocenza. Efficienza ed accelerazione della macchina della giustizia che significa anche intervenire sulla carenza di personale che affligge tanti tribunali a cominciare proprio da quello di Treviso. Quindi il primo obiettivo, almeno per quanto posso intervenire, è quello proprio di rendere più efficiente la giustizia colmando gli organici e anche semplificando le procedure in modo da anche incentivare gli investimenti perché il ritardo dei processi civili e penali ci costano un 2% di PIL. Io ho già detto che sono favorevole alla separazione delle carriere che è consustanziale al processo accusatorio anglosassone voluto dal ministro Vassalli. Naturalmente gran parte è già stato attuato dalla riforma cartabia perché di fatto le funzioni oggi sono molto separate, però la separazione netta può essere attuata, secondo me, come quella del Consiglio Superiore della Magistratura solo attraverso una revisione costituzionale. Il ministro è intervenuto alla presentazione del libro Volti e Storie di Domenico Basso che, tra le altre, racconta anche la storia del magistrato trevigiano, ora ministro. Tanti personaggi che avevano delle storie da raccontare, oltretutto anche con una certa umiltà, con una certa disponibilità e quindi ho pensato che fosse anche bello poterle raccontare e poi queste storie possono anche diventare un esempio per altre persone.